Un bel dono di Natale, non da scartare, bensì da danzare, proprio come hanno fatto i 700 partecipanti che a rotazione hanno animato il Salone Estense di Varese con balli ottocenteschi in costume d'epoca e non solo. Una bella iniziativa, giunta la sua seconda edizione, ancora una volta capitanata dall'Associazione 2320 di Sonia Milani. Obiettivo? Mostrare sul campo, anzi su pista da ballo, i progressi compiuti grazie alla borsa di studio assegnata a Giovanni Alienelli, uomo disabile, innamorato della danza e protagonista del progetto Scarpette nel cuore, finanziato da Camera Condominiale di Varese. Grazie a quella preziosa donazione, Giovanni e la sua partner, Enrica Passadori, hanno conquistato il titolo di vice campione italiano e di campione regionale in ambito paralimpico. L'evento, benefico e benaugurante, è stato salutato dall'organizzazione come un grande successo e col più sentito ringraziamento a Eliana, di Società Danza Milanese, Carlo di Art Dance. Grazie a tutti.